Non appartengo a nessuno, appartengo alle mie scelte, vado dove mi accolgono, dove so che mi aspettano, dove sento che mi apprezzano, dove mi dicono mi sei mancata e dove mi mostrano tutto quello che dicono di sentire. Lì, in quei posti, ci sono io. Tutto il resto è passaggio, formalità, cordialità, ma non presenza. Grazie a tutti.